Da renderci conto che il genere maschile ha un problema di aggressività, di esaltazione della violenza, di cultura dello stupro, di mascolinità tossica. Perché alla decima, alla centesima, alla millesima storia di una donna che si ritrova vittima di un uomo, una riflessione sugli uomini in senso lato va fatta. Non perché siano tutti colpevoli, ma perché siccome sono tutti uomini, hanno tutti la responsabilità di controllare i propri comportamenti. E cazziare i loro amici se invece hanno atteggiamenti aggressivi. Ma come? Io sono responsabile pure per gli altri. Sì, ogni volta che potresti fare la differenza dicendo qualcosa e non lo fai. Funziona così per tutti, eh? Uomini e donne. Si chiama essere delle persone decenti. Non lo fai? Te ne stai lavando le mani? Vieni a fatti con questa cosa. Non ti piace? Cambia il tuo comportamento. Ecco, qual è la cosa peggiore da dire in questi casi? Arrivederci.